Intanto hanno ritirato anche oggi due norme, come al solito soprattutto una ha ulteriormente una norma mancia, ormai è diventato davvero mancia abruzzo e poltronificio abruzzo, litigano su tutto, ma è sempre una questione di nomine da un lato oppure di erogazione di alcune mancie dall'altro e poi puntualmente in commissione debbono ritirarlo. Le fibrillazioni sono state tali a tal punto che durante i lavori del Consiglio e per la prima volta dopo nove mesi è venuto meno anche il numero legale, tant'è che si è dovuto correre ai ripari con una sospensione e successivamente richiamare il consigliere che nel caso di specie era tra virgolette il sedicesimo. Erano 15 all'atto del voto, peraltro di un provvedimento importante che abbiamo sostanzialmente consentito a farlo passare in questo Consiglio in modo rapido che era appunto la istituzione dell'Agenzia della Protezione Civile. Su un punto così importante è venuto meno anche il numero legale. Continua purtroppo questo modo di lavorare da parte della maggioranza che dimentica le vere priorità e dietro la corsa alle nomine, alle disegnazioni come quella della Corte dei Conti, alle mancie come purtroppo avviene per troppe norme, si dimentica i veri problemi. Tant'è che il bilancio, nonostante non ce ne sia il bisogno, arriverà tardissimo per via appunto di questa maggioranza così inconcludente.